Buona domenica sera a tutti i Orchettis in Orcuverde in questo video volevo informarvi che poco fa le sviluppatori di gioco hanno confermato una nuova arma che sarà presto disponibile nella modalità battaglia reale di Fortnite prima di iniziare vi invito a condividere il video poi a lasciare un bel pollicione in su e seguirmi sui social trovate tutti i link nella descrizione iniziamo subito se in questo momento vi recate sulle notizie nella modalità battaglia reale ci sarà scritto presto disponibile torretta montata posiziona la torretta montata e salta a bordo per una bella raffica di soppressione attenzione l'unità può surriscaldarsi per cui quest'arma sarà una torretta che si dovrà posizionare a qualche parte per poterla utilizzare magari si potrà posizionare anche sopra le piattaforme costruite dai giocatori della propria squadra se sarà così vuol dire che si potrà creare un proprio fortino sopra ad una piattaforma nel fortino posizionare quest'arma questa torretta secondo me sarebbe una cosa che ci starebbe un casino inoltre questa torretta si potrà surriscaldare sicuramente si surriscalderà quando un giocatore la utilizzerà per troppo tempo di seguito senza fermarsi comunque questo lo scopriremo presto quando questa nuova arma sarà disponibile nel gioco sicuramente quest'arma verrà aggiunta nel gioco in uno dei giorni della prossima settimana con l'arrivo del nuovo aggiornamento della nuova patch fatemi sapere nei commenti sotto questo video secondo voi come sarà quest'arma che cosa ne pensate di quest'arma quindi dentro ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in su un commento iscrivetevi al canale condividete il video poi seguitemi sui social trovate tutti i link nei miei social nella descrizione e da Orkoverde ci vediamo al prossimo video bella